Musica Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Telebari. Emozioni e polemiche. Questi sono i due volti dell'attesa per l'inaugurazione del Teatro Petruzzelli. Ce ne parla Alessandra Bucci. È scatata la corsa dei 1200 fortunati estratti nella lotteria Assort e dietro di me vedete la coda. Molti di loro stanno ritirando già i biglietti e sono molto emozionati perché dopo 18 anni molti di loro varcheranno nuovamente la soglia del Petruzzelli. Lei è uno dei fortunati estratti, è contento? Contentissimo, benissimo. Che posto ha avuto? Terza fila, platea e terza fila. Conte, meglio di così non potevi andare. Beh, mi fa piacere perché da piccola lo avevo frequentato e quindi rivederlo sicuramente. Io sono particolarmente contenta perché ho studiato per tanti anni musica, quindi ho la licenza del conservatorio e per cui sono davvero felicissima. E abbiamo aspettato fin troppo. E mi ritengo molto fortunato perché diciamo mi ricordo quando sono cresciuto, quando ero piccolo, che venivo qui con mio padre, poi il dolore di aver preso questo teatro e oggi ritrovarlo, per cui tanta commozione. Un grande emozione e sottofondo di enorme nostalgia e quindi ora sono veramente contenta. I biglietti si possono ritirare presso il botteghino da oggi, dalle 10 alle 19 fino alle 20 di sabato. I posti vacanti di coloro che non ritireranno l'accredito saranno assegnati alle riserve. E ormai contro la rovescia dunque, all'interno dei petruzzelli ritrovato si torna a respirare l'arte, attraverso le note della Nonna Sinfonia di Beethoven affidate al maestro barese Fabio Mastrangelo. Il suo auspicio è che l'evento di domenica tiri su Bari gli occhi del mondo. Un grande onore, prima di tutto ovviamente, è un concerto che ha un grandissimo significato e credo di non sbagliarmi nel dire che ha un grandissimo significato non solo per la città di Bari ma per tutta l'Italia e anche un po' per tutto il mondo che nel passato ha conosciuto il petruzzelli nella sua splendida forma musicale e non solo. Ma c'è l'altro volto dell'inaugurazione, quello delle polemiche che hanno fatto breccia nel centro-sinistra e nel centro-destra. In tanti hanno risposto con un secco no grazie alla passerella della prima dedicata ai solidi noti. Ma il vicepresidente della provincia di Bari, Nuccio Altieri, getta acqua sul fuoco. 4 di ottobre, che è la prima data utile per permettere che l'opera Sogno di una notte di mezz'estate, già in programma dalla fondazione, si possa tenere qui al Teatro Petruzzelli invece che al Teatro Puccini. Quindi le polemiche trovo ingiuste, ingiustificate e soprattutto ancora una volta contrarie alla riapertura del teatro. Chi oggi fa polemica non ama il Teatro Petruzzelli. Siamo ormai al traguardo di questa lunga maratona durata 18 anni. Il countdown qui sopra di me lo vedete è spento perché è ormai tempo di dare il bentornato al Teatro Petruzzelli. Il comune di Bari recupera un milione di euro dalle multe e altrettanto dal gettito fiscale della Tarsu. Consegna invece 500 mila euro alla fondazione Petruzzelli, 5 milioni all'Amio e 3 all'Antab. Sono questi i principali numeri del riequilibrio di bilancio approvato ieri a Palazzo di Città. La manovra da 14 milioni rischia però di sforare il patto di stabilità. Un'eventualità che sarà verificata a fine dicembre, termine ultimo per pagare 7 milioni di euro alle imprese per i pubblici lavori. Una irresponsabilità ha accusato ieri l'opposizione di centrodestra che ha votato contrario, ma il documento è passato a larga maggioranza con l'approvazione di un ulteriore ordine del giorno che chiede al ministro Tremonti di rivedere i parametri del patto di stabilità. Camera di commercio è corsa contro il tempo per il presidente Farace e il consiglio direttivo dell'ente. Dopo la notifica dell'apertura di un istruttore da parte della regione c'è un mese di tempo per evitare il commissariamento. Ce ne parla Mirko Cafaro. Lo avevamo già anticipato un mese fa, ora la notizia è ufficiale. La Camera di commercio di Bari è a rischio commissariamento. Il provvedimento è stato notificato ieri dalla regione che ha avviato un'istruttoria sul presidente dell'ente camerale, Luigi Farace, e sul consiglio direttivo. Tre, le questioni al centro delle discussioni. La prima riguarderebbe la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta che ha colpito Farace. La regione chiede se, come previsto dalla legge, sia stata data opportuna comunicazione al consiglio e quale, in tal senso, possa essere la decisione in caso di destituzione del numero uno. Il secondo punto, invece, verterebbe sull'aumento di capitale della società del mercato ortofrutticolo. Il procedimento si sarebbe svolto secondo procedure, quanto meno in rituali, tanto da produrre la censura da parte del Collegio dei Revisori, che poi, seppur a maggioranza, ha avvallato l'operazione. In ultimo, l'organo direttivo dovrà rispondere anche del mancato recupero di somme corrisposte ad ex componenti del Collegio dei Revisori, poi allontanati perché non idonei a ricoprire il ruolo. Ora, per Farace e il Consiglio direttivo, c'è un mese di tempo per fornire risposte esaustive a tutti questi interrogativi ed evitare così il commissariamento. Grande attesa e polemica è anche per l'annunciata presenza di Patrizia D'Addario questa sera negli studi di Anno Zero, programma di Rai 2 condotto da Michele Santoro. Si tornerà a parlare dello scandalo Escort, con la D'Addario chiamata a raccontare le sue verità sulle feste a Palazzo Grazioli, residenza romana del Premier Silvio Berlusconi. Una presenza che ha scatenato subito la reazione dell'imprenditore barese Tarantini coinvolto nel sexy scandalo e accusato di reclutare Escort per il Premier. I suoi legali hanno diffidato Santoro dall'invitare la D'Addario, ma secondo indiscrezioni in trasmissione ci sarà spazio anche per altri ospiti delle notti romane.